Il nucleo operativo della compagnia di Bari Centro ha arrestato un incensurato 25enne originario di Acquaviva delle Fonti, titolare di un noto e frequentato bar del capoluogo, restosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai carabinieri durante un servizio preventivo di controllo del territorio, mentre in compagnia di un'altra persona a bordo di un'auto di grossa cilindrata transitava a velocità sostenuta sul lungomare Nazario Sauro. Alla richiesta di esibizione dei documenti, due sono apparsi subito molto agitati, motivo per cui i militari, insospettiti dall'agitazione dell'uomo, hanno deciso di procedere ad un più approfondito controllo. Dall'ispezione effettuata prima nell'abitacolo e poi all'uomo sono stati rinvenuti uno zaino contenente 15 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza, un foglio su cui erano riportati i nominativi e le somme di denaro derivanti dall'illecita attività di spaccio, oltre a 2.000 euro in contanti. I carabinieri hanno poi deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione e al bar gestito dall'uomo nel cuore del centro storico, dove sono stati rinvenuti altri 68 grammi di marijuana e un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio della sostanza. La particolare circostanza ha reso necessario l'intervento del nucleo antisofisticazioni e sanità al fine di verificare, alla luce di quanto rinvenuto nei locali adibiti a cucina, il rispetto della normativa igienico-sanitaria. Nel corso dell'ispezione, svolta anche con l'ausilio di una pattuglia della stazione Carabinieri di Bari principale, è stata accertata la mancata implementazione del manuale di autocontrollo HACCP in violazione della normativa sulla sicurezza alimentare, che ha determinato una sanzione amministrativa di 2.000 euro. La droga sequestrata sarà analizzata dall'AS, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. L'arrestato si trova ai domiciliari.